Siamo al termine della partita Gaggiano Bergamo calcio a 5 finita 5 a 5 con noi Rossi-Christopher una doppietta che non è servita a vincere la partita ma è un risultato giusto? Secondo me non è un risultato giusto per quello che si è visto in campo perché secondo me abbiamo meritato di vincerla però va bene come è andata è andata E' la prima volta quest'anno che fai doppietta? No l'ho fatta anche all'andata contro questa squadra Bene passiamo a Danny Lorenzi Un minutaggio piuttosto alto anche secondo te è un 5 a 5 che va stretto o no al Bergamo? Si un po' stretto perché avevamo fatto qualcosa in più e potevamo anche vincere Bene e con questo è tutto Linea allo studio